bene come accoppiata sulla self leader ho deciso di montare un nuovo arrivo se così possiamo chiamarlo di casa shimano l'ultegra xsc un linello secondo me eccezionale leggerissimo questo sfrutta il nuovo polimero il si ai for plus derivato dal si ai for ancora più resistente ancora più leggero meccanica x ship che consente un recupero potente senza però affaticare il pescatore nel nel azionamento della manovella una fluidità commensurabile e una slow oscillation che ci permette un perfetto imbobbinamento del filo per non stressarlo e per avere sia nel lancio delle performance migliori sia nel recupero una sicurezza quando siamo fili sottili eccola è belle capocciate eccola qua un bel esemplare di spicola intorno al filo anche se il mare è calmo non c'è da stupirsi perché questo tipo di predatori sul cambio di luce entra in frenesia alimentare va a cercare le sue prede proprio che nel cambio di luce sono un po disorientate loro entrano in attività essere nella fascia giusta al momento giusto significa riuscire a tirare fuori una preda del genere grazie a tutti